Napoli si sbriciola. Dopo la Galleria Principe, Castel dell'Ovo, il Mann e il Maschio Angioino, perde pezzi anche il ponte di Via Chiaia. E sabato pomeriggio, i passanti non sono pochi, quando calcinacci si staccano dall'arco della struttura finendo in strada. Il caso ha voluto che nessuna persona venisse colpita e ferita dalle pietre staccate dalla volta del ponte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area, transennando in corrispondenza dei crolli avvenuti su entrambi i lati di Via Chiaia. In una città dove in passato recente non sono morte delle persone a causa di crolli, l'attenzione su questo genere di episodi è alta. Particolare del crollo avvenuto nel primo pomeriggio di sabato è che il ponte era stato oggetto di restyling ed era anche stata rimossa la rete di protezione, posizionata anni fa in occasione di precedenti distacchi di pietre. Restaurata da poco, era stata anche la Galleria Principe di Napoli, dove sono stati tre i crolli da maggio a luglio scorsi. Vien da dire e meno male, ora tocca al Comune trovare i fondi per un piano di manutenzione ordinaria.